ragazzuoli bentornati nel mio canale oggi torniamo a parlare di modellini modellini sapete benissimo che io alien versus predator per me è leggenda è leggenda oggi sono arrivati i due nuovi arrivi due e mezzo e questo è veramente arrivi d'elite perché questi qua sono strong strong sono modernissimi ultimo grido anche le scatole ragazzi sono talmente fatte bene porca miseria che tengo anche le scatole vedete che questo è il delitto ma c'è anche scritta la storia del predator eccolo tutti i tipi di predator magari voi stoppate il video guardate tutti tutti i tipi di predator gli alien i ragazzi qui ce ne serve una collezione che ti che ti spendi lo stipendio tutto tutto lo stipendio fai fuori qui se no se non stai attento perché chi chi appassionato di queste robe qui ragazzi sono robe allucinanti ovviamente le sue armi no testa di ricambio la maschera è fantastico robotici da mettere bellissime ragazzi bellissime e poi la metteremo in piedi sono fantastici questi sono gli ultimi costruiti dai geni la maschera poi ci sono le mette le armi tutto quanto passiamo al secondo eccolo questo è anche roba è roba ultramoderna il piedistallo scatola super perfetta come assemblarlo anche questo c'è il piedistallo finalmente un piedistallo come dio comanda non come gli altri che erano tutti anche più piccolo degli altri però anche la testa guardate che ben fatta io trovo ovviamente il buchino qui per mettere il piedistallo no la cora fenomenali fenomenali questi modellini ragazzi fenomenali sono geni chi costruisce questa cosa chi fa questa roba perché sono talmente fatti bene no che poi con questo hanno messo anche quello che ci ha dato l'uovo che puoi cambiare con dove è andato a finire questo qua puoi metterlo agganciarlo qui dietro adesso andiamo a metterli in piedi ecco lì ragazzi messo con tutte le armi la mostra questo qua hanno messo un pedestal finalmente decente comunque guardate con bene che sono fatti questo qui con il piccolino stupendi ragazzi stupendi ma proprio fatti bene in ogni dettaglio guardate che roba anche questo qui guardate che roba i dettagli proprio guardate con le armi nuove questo sarebbe proprio un capo ora gli abbiamo messo la maschera questo è uno di pochi predator che non occorre cambiare la testa per mettere la mostra da vicino che non occorre cambiare la testa per mettere quella con la maschera questa maschera è ad incastro stupendi ragazzi bene torniamo al piccolino perché pensavate che erano finiti qui ed eccolo è arrivato lui l'alien gorilla questo addirittura dietro c'ha il e cosi per muovere per muovere le mani i dettagli ragazzi bisogna guardare i dettagli prima volta che gli alien sono due contro uno di solito è sempre l'alien in inferiorità numerica io spero che questi contenuti questi qui per i più appassionati vi piacciono perché chi è appassionato di modellismo poi ci sono anche tanti chi è appassionato degli amager ci sono collezionisti ragazzi adesso arriverà veramente il capo dei capi il capo dei capi il prossimo video sarà per lui ultimo flash ragazzi io spero che con tutto il cuore che questi contenuti vi piacciano iscrivetevi al canale like campanellina fate contento michelone come dico a tutti ciao a tutti belli e brutti e un iscritto al giorno toglie il medico di torno alla prossima raga e un iscritto al giorno